Oh, è bello stavolta! Ma è bello! Sì, mamma! Ciao, siamo qua per Vapers Live Stanno facendo un film tipo qualcosa di bello qua a Padova Questo è il Journey Gamer Stiamo andando a trovare il gatto Stiamo andando a trovare il gatto Guarda che bella la cosa La fontana Per i selfie però è una macchina fotografica quindi non funziona Sai che bello! Tipo si spezza la metà Per voi siamo a Padova oggi Stiamo facendo anche noi un film Ma ci sei solo te Questo è il nuovo film di Filippo Francesco Piva Sì, lì c'è Sant'Antonio Impediamo Sant'Antonio Dov'è Sant'Antonio? Poi c'è una scuola Una scuola Una scuola proprio Si è spostata Ho un sondaggio per voi Scrivete nei commenti di risposta Secondo voi il partito della valla è gratis? Perché non ci è abbassata la sbarra Ah, il partito? Sì, quindi il partito sono due O è gratis O è gratis O è rotta O la sbarra ha visto una bella donna E quindi non esce più ad abbassarsi E c'è Daniele Adesso ricordiamo lo svappo italiano Lui è il miss svappo italiano Sì Poi una cosa bella che c'è a Padova Sono io No, è praticamente un negozio di mangiare Di mangiare Per pranzo In cui fanno la pasta È quello che è su questa sala qua? Sì È tipo... Tipo lì Anche se stiamo inquadrando le persone Però non ci cagano Per fortuna Però per fortuna Facciamo i prank Lo stai a fare prank A Padova Ma vedi quella signora lì Le chiedi di lei Se vuole la poterò una pasta O sale o un... O un... Adesso inquadrano le persone Facciamo il zoom sulle persone Bello figo prank Che la signora si è accorta Che la sto inquadrando Aspetta C'è giornato Madonna C'è tanta roba C'è schermo lì da qualche parte Figata Dove? Non so Metti il segnalino Come si fa? Sotto Questi E quindi Quindi dobbiamo girare di qua Qui c'è il Tigota Lì c'è un tabacchino Non fumate Fa male Svappate solo E come dice Drago Se non fumate non svappate Perché È inutile Lì è Daniele E devo pisciare tantissimo Adesso andiamo a catturare un Pokémon Che stiamo cercando dalla vita Perché In realtà non so neanche che Pokémon sia E che Pokémon E che Pokémon È un servizio di libertà Ed è bello Sì Un pezzo di ciaio Come il mio Ecco Adesso È esponato Cosa è fuggito? È qua Guardalo Figata Allora Adesso Allora Tiriamo fuori il mio coso E lasciate un like Per curarmi la pipì E male alla schiena Ciao ragazzi Se cade la macchina Daniele mi Ci vediamo dopo Ci vediamo dopo Vi mandiamo un bacino Siamo tornati Siamo tornati Stiamo aspettando che Smarcio prelevi Esatto Stiamo andando a mangiare Da Da Francesco Renato Guardate Smarcio che esce Stai facendo un video? Sì Stai facendo un video? Sono Vaper Slife Vaper Slife senza fare Vaper Esatto Secondo il clou di Smarcio Basta praticamente Ecco Le views Le views sexy Guardate Presente L'hello Mary Della TNT Vape No Che è il liquido Sì Hai toccato qualcosa Vabbè era duro anche quello Non mi interessa No era male Aveva la forma del Goon È finotto Col buco in mezzo È maroso Guardate che pulisco qui No non potete guardare Guardate che pulisco qui Senti inquadrare però Stai inquadrando Io sono messo così Sì ma con un'inquadratura Questa Appunto È così spartana Sfogona sul centro Esatto Comunque Eto Diamo smaccio che si fanno Eto 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 C'è giunto il smaccio Salute il smaccio Ciao smaccio C'è smaccio C'è smaccio Tira poco Davvero? Ha fatto 30 C'è smaccio Aveva tirato un po' Perché devi fare tiri lunghi Perché sono quelli grossi come la merda C'è come la sigaretta La palla La scintuitizia La recensione La recensione Ancora È uno svolto È uno svolto Mi piace Pozzò Perché Perché lo svolto è l'amore Guarda Adesso Voi pensate L'hello Mary Vabbè È il gusto alla marijuana E per descriverlo su internet Che c'era la Roma Si è scritto tipo Liquido aromatizzato Alla Famosa Pianta usata In ambiti Medicinali Tutto il giro di parole Per evitare di dire Quello Si vabbè Puoi dire che sapeva La canape un po' Eh Boh A quanto pare quelli di Certo che non dico il nome Non volevano mettere No E comunque se si chiamavano Mary Bastava scrivere tipo Gusto aromatizzato Sapete cosa sto a dire Sapete cosa sto a dire Sapete cosa sto a dire No Poi c'è anche Tu hai raccontato La tua storia Sì Ho usato il mio telefono Come macchina fotografica manuale Io uso la macchina fotografica Come telefono Pronto Ah si Allora Siamo andati A mangiare da Francesco C'era una pila della madonna Tipo Non so Da lì Per metà piazza No Praticamente Da un pilastro all'altro No Di più ce n'era No Si madonna Giacomo guardami Però erano buonissime le focacce Porco schifo Era buone Ma adesso tutti vomitano un po' Ma come tutti vomitano? Da Francesco se ci segui sponsorizzaci che siamo grati di avere le tue Poi creiamo i liquidi al gusto focaccia Al gusto focaccia Quello piccante Quello piccante Che buono Piccante Croccante Che c'è da Giacomo Giacomo incontro a luce che svappa Che scena romantica Ti ri 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 musica 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 ma c'è un pazzo che attraversa con il russo l'inverso la cazzo musica 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 ah, un malay kid adesso andiamo a casa che siamo stanchi abbiamo mangiato molto bene non siamo stanchi? che è una sega elettrico ma dov'è che si paga? c'è a Londra è lì nelle bank op ma si paga dove mi sono parcheggiato mi sono messo lì apposta andiamo a parcheggiare aspetta di farlo musica rifatelo ora musica io ho tipo lo zaino da spacciatori tutti gli spacciatori hanno le zaino della don't face di merda di merda ma tipo io non mi ricordo dove ho messo la macchina per cui adesso stiamo cercando a casa dovrebbe essere tipo lì tu puoi fare questo con i tuoi occhiali? me l'hanno rubato sono gli occhiali ah ok vi faccio vedere giacomo così si fa tipo filtro rosa con la musica non vogliamo smettere adesso do una coppa a giacomo di quelle forti non è che c'è un merlo osservabile cos'è? oddio ma non si vede bene l'unico merlo che mi sa volare è biancatele e che scappa e non vuole farsi riprendere schifo adesso do una coppa a giacomo così forte diventa lui il merlo osservatico era una golf plus siamo arrivati da questa macchina quanto vale guardare se le sbaglio sono su giù la golf plus la golf plus ah e sai come c'è che devi mettere tipo il pazzino e proprio il pazzino? dice? no vero dice? non c'è più la pazzina no le casse sono chiuse che culo di merda andiamo via ciao devo guidare questo è Vapor Life parte 35 e sono stanco Daniele ha perso il chubby eccolo lì guardiamo Daniele ha perso il chubby povero dove sta andando? si torna fino da franzino ahahah c'è Smarsh l'orecchio di Smarsh facci vedere i pollici di Smarsh sul dominio pubblico qui c'è la macchina che è una proprio bellissima l'obbietà dello stato italiano e mi pollici si esatto l'ha trovato? no dalla faccia no l'hai trovato? che due maroni non c'è serio ah è ridicolo facci vedere un tiro senza saldo che due maroni eccolo io sono anche scatarrato in bocca non è che è caldo che sa un po' da cane non riesco a spegnerlo per me sa un po' da cane non sa da cane la cane ah ok beh visto che nemo a rovigo ci passi per il tabacchino si lo prendi? ehm si potrei